le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di giovedì 25 agosto ariete in amore siete sensuali il vostro fascino non passerà inosservato e il partner vi riempirà di attenzioni non impuntatevi su sterili questioni di principio toro giornata con la luna difficile dovrete raddoppiare gli sforzi se volete portare a termine gli impegni della giornata in questo momento non tollerate gli imprevisti gemelli ancora una giornata positiva in cui però dovrete cercare di uscire dai soliti schemi in amore ad esempio dovete essere bravi a sorprendere il partner cancro sarebbe il caso di dedicarsi anche un po agli altri ai vostri familiari ad esempio che hanno bisogno di attenzioni la luna vi fa sentire il peso delle responsabilità leone la luna nel vostro segno è complice di un incontro che può regalarvi un'emozione inaspettata sul lavoro potete sperare in un colpo di fortuna vergine state attenti sul lavoro la luna può portare un problema inaspettato se non studiate bene i capelli di un contratto il partner vi fa innervosire bilancia approfittate dell'ottimo influsso della luna per proporre nuove idee sul lavoro la vostra dialettica fluida sarà molto apprezzata da tutti scorpione in amore lasciate passare questi due giorni in cui non riuscirete a giudicare con serenità le situazioni della coppia presto ritroverete l'equilibrio sagittario la fortuna è dalla vostra parte anche in ambito finanziario avete delle buone occasioni che potete cogliere al volo grazie alla vostra autostima capricorno questa luna rappresenta una bella ventata di novità nella vita sentimentale è il momento di godersi le cose belle senza pensare solo al dovere acquario la luna opposta vi destabilizza e quando mettete in evidenza il lato emotivo del vostro carattere rischiate di combinare davvero poco sul lavoro pesci vi sentirete in buona forma avrete una grande capacità di analisi e soprattutto riuscirete a mettere un pizzico di genialità in tutto ciò che farete e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus ciao a tutti ciao a tutti